Ci siamo, dai dai dai. Andrea Gianni, tu, Modena e i tifosi, la società, tutto l'ambiente, aveva bisogno di una serata così? Ma avevamo bisogno di una serata così. Noi dobbiamo pensare che abbiamo una squadra, l'abbiamo fatto vedere a Padova, cioè il nostro livello non è un livello da top team, no? Quindi dobbiamo lavorare per migliorare prima l'attacco e deve essere il nostro focus. La ricezione è il nostro focus e non sono passaggi che possiamo pensare di fare in una settimana. Abbiamo bisogno di tempo. Questa sera, rispetto alla partita di Padova, abbiamo avuto un passaggio nel secondo set per la ricezione, però quello che abbiamo fatto bene e con continuità è stato l'attacco. Questo è importante perché ci dà molto più respiro. Non possiamo pensare che Erwin ci vinca da solo le partite. Sono molto contento di quello che ha fatto Rinaldi. Ci ha messo dentro qualche errore, però ha fatto una partita sostanziosa. È tutta la squadra dietro, quindi è una partita poi importante perché abbiamo giocato contro un top team. Quindi vincere 3-1 in un finale di set così, no? Siamo andati avanti e poi ci hanno recuperato, però nel momento caldo abbiamo avuto la mano calda. Quindi sono contento su questo, ma questo non ci deve far pensare che adesso abbiamo fatto il passo grande, no? Dobbiamo fare piccoli passi e le progressioni le possiamo fare solo mettendo quello che stiamo mettendo in mente. Grazie. Grazie.